E' stata una mattinata come tante altre, umida, imbrigliata nel torpore di questa primavera altalenante, sopita nei crepuscoli della Chiaio Lilla, che si schiudeva al nuovo giorno. Pochi sorrisi, pochi sguardi della gente della zona. A Procida il The Day After, dopo la rimandata demolizione di ieri, si è aperto con l'arrivo a casa Ambrosino di buon mattino della ditta incaricata della demolizione, che ha ripreso possesso del cantiere posto sotto sequestro giudiziario. Segati pali che reggevano le piante di uva di filuccio, posizionate alla rete di sicurezza posto i cartelli, hanno iniziato a tirare giù i muri divisori, tra mezzi e gli stand delle finestre, a colpo di martello pneumatico e picconi. Nessuna ruspa è giunta dalla terraferma, almeno per oggi. Resta ancora il nodo del bombodolo del gas da risolvere. Sullo sfondo lo sguardo attonito del figlio del proprietario Nicola e i pochi carabinieri messi lì a sorvegliare la zona.